Bungie ha pubblicato il consueto aggiornamento settimanale su Destiny 2 annunciando una serie di novità interessanti che i giocatori richiedevano ormai da parecchio tempo. Mentre la nuova edizione dello standardo di ferro è ormai nel vivo si inizia quindi a parlare dell'aggiornamento 2.2.1 che dovrebbe arrivare il prossimo 9 aprile. Le modifiche interessano sia i loot che i drop rate che le rotazioni dei car la notte con l'obiettivo ultimo di ridurre il fattore casualità e permettere ai giocatori di farmare in maniera più efficiente per gli oggetti di interesse. Dunque come probabilmente saprete tanti giocatori di Destiny 2 non sono mai riusciti a completare particolari trionfi, sigilli o ad ottenere determinati oggetti unici dai car la notte a causa dell'elemento RNG. Detto in due parole il problema era che un determinato car la notte poteva non ripresentarsi per parecchio tempo proprio per via dell'algoritmo che ogni settimana seleziona casualmente quelli disponibili. Bungie fa sapere allora che interverrà con il prossimo update sia sugli assalti che sui cara la notte in maniera tale da garantire una rotazione più efficiente per chi volesse completare i sigilli. Questa settimana intanto è possibile svolgere il Nightfall della Corrotta, quindi date un'occhiata se vi serve per completare il sigillo della città sognante. Allo stesso modo per fortuna non si ripeteranno più situazioni in cui non potremo farmare le armi che ci interessano dalle forge. ADA-1, ovvero l'NPC dell'arma via nera, inizierà a vendere da aprile 2019 tutti i telai contemporaneamente. Le rotazioni verranno quindi del tutto eliminate, evitando che si creino di nuovo situazioni assurde come quanto successo con testa di martello. L'ottima mitragliatrice ottenibile dalla forge di Volundr è rimasta irreperibile per tanto tempo proprio per la mancanza del corrispettivo telaio da ADA-1. Tutti quei giocatori che desideravano andare alla ricerca dei roll perfetti sono quindi rimasti con le mani in mano, lamentandosi sonoramente sui forum e su Reddit. A partire dal 9 aprile quindi potremo avere accesso a qualunque telaio ogni settimana. Resta però il limite dei tre telai completabili ogni settimana, quindi non sarà possibile dedicarsi a un grinding sfrenato. Direi che comunque va abbastanza bene, è un miglioramento importante. Bungie fa sapere anche che continuerà a rilasciare a cadenza regolare aggiornamenti che migliorino l'esperienza utente, i cosiddetti Quality of Life Adjustments. Nel frattempo noi intanto continuiamo a rompere gli shader in maniera indecente. Allora, Destiny 2 ha sempre sofferto di un elemento RNG piuttosto fastidioso, a volte tollerabile, a volte semplicemente snervante. Come abbiamo visto l'aggiornamento di aprile intende ridurre notevolmente la casualità e permettere ai giocatori di progredire in modo più concreto verso i propri obiettivi. Le modifiche in arrivo interesseranno quindi anche alcuni oggetti rari necessari al completamento di certi distintivi. Per quanto riguarda ad esempio la città sognante si menzionano il Ghost, la nave e lo Sparrow che vedranno il proprio drop rate incrementare in maniera significativa. Bungie non è stata molto precisa, dice solo che il drop rate sarà duplicato, triplicato o più. È la cosa ci piace. Vi ricordo che i tre oggetti possono essere trovati con probabilità estremamente bassa completando qualsiasi attività della città sognante, inclusi raid e pozzo cieco. Ci sono però degli eventi specifici in cui il drop rate è più elevato e sarà ulteriormente incrementato con l'aggiornamento di aprile. In particolare è meglio farmare il Ghost nelle sfide ascendenti, lo Sparrow nella missione settimanale con ricompensa potente e la nave nel trono infranto. Anche in raid l'ultimo desiderio vedrà un aumento nel drop rate per gli oggetti cosmetici, quindi di nuovo Ghost, nave e Sparrow. Anche in questo caso non ci sono numeri, Bungie ripete che le probabilità verranno raddoppiate, triplicate o più. L'esotica mille voci dovrebbe venire druppata più spesso, ma la compagnia fa sapere che l'arma continuerà ad essere rara. Secondo le dichiarazioni dello sviluppatore i giocatori avranno probabilità leggermente maggiori di ottenerla. Non si sa bene di quanto, ma è meglio che un pugno in bocca. Ci si aspettano incrementi nel drop rate anche per alcuni libri dedicati alla loro, ovvero La Cassa di Cade, La Città Sognante e La Riva Contorta. Sembra poi che i cheater di Destiny 2 inizieranno ad avere la vita un po' meno facile. Facendo un attimino la gnorri, Bungie ha lasciato intendere che le cose stanno per cambiare e minaccia di bloccare gli account dei giocatori che virano le regole di condotta generali. Sembra una sorta di ultimatum, una specie di sappiamo chi siete, vi siete divertiti, però adesso basta. Dunque, la posizione della compagnia è comprensibilissima considerato quanto abbia investito in Gambit Prime. La nuova attività PvPVE è stata il piatto forte dell'ultima espansione e sembra che lo sviluppatore volesse trasformarla in una specie di nuovo e-sport di richiamo. Così non è stato, ovviamente, almeno per il momento, forse perché non c'è quell'elemento novità dell'originale Gambit, o forse magari per la necessità di farmare l'equipaggiamento dedicato all'interno di un altro evento. Con ogni probabilità, se ci fosse stato un sistema di progressione più coeso o dei loot più validi, i giocatori magari avrebbero risposto in una maniera diversa. Per adesso, purtroppo, Gambit Prime è solo una bella attività a cui dedicarsi, che sicuramente stuzzica a tanti giocatori, giocatori che è giusto tutelare nel momento in cui qualcun altro decide di fare il furbo. Ora, a questo punto io credo però che valga la pena riflettere anche su un altro elemento non menzionato nell'aggiornamento, ovvero il crogiolo. Per quanto Gambit e Gambit Prime siano sicuramente delle attività piacevoli, mi sembra che Bungie stia trascurando veramente tanto il crogiolo standard. Il numero di mappe a nostra disposizione è fermo ormai da troppo tempo, non si è mai preso in considerazione l'opzione dei server dedicati e non c'è stata nessuna novità o aggiornamento sulle prove dei nove o prove di Osiride, che dir si voglia. Destiny 2, come il suo predecessore, ha dalla sua un gameplay molto valido. È chiaro che tantissimi giocatori vogliano lanciarsi nella mischia in attività più tradizionali di Gambit, come appunto il deathmatch classico o magari la modalità controllo. Lo sviluppatore ha saggiamente recuperato un paio di mappe dal primo capitolo della serie e credo che questo in termini di investimenti non abbia comportato chissà quale sforzo, hanno semplicemente rifatto alcune texture, punto. E credo che il problema sia esattamente questo, ovvero il fatto che i contenuti ci sono ma non vengono implementati. Non credo che qualcuno si lamenterebbe della riproposizione di vecchie mappe se queste venissero implementate gratuitamente. A mio parere è necessario infondere un po' di vitalità nel crogiolo che ha ancora tanto da dire e che è stato lasciato fin troppo a se stesso. Ad ogni modo, per questo aggiornamento è tutto. Adesso aspettiamo di scoprire qualcosa in più sull'evento di celebrazione dell'energia ad arco che avrà inizio il 9 aprile. Come al solito io vi invito a condividere, lasciare un like e iscrivervi. Noi ci risentiamo alla prossima.